qui sono partito dal golfo di napoli per andare all'isola di procida qui si vede tutta napoli oggi c'è un cielo azzurro spettacolo guardate che bella che meraviglia ho preso il traghetto da napoli e sono venuto qui all'isola di procida e penso che non ci sia niente da aggiungere penso che non ci sia niente da aggiungere c'è solamente da guardare ammirare e avere la fortuna di essere qui dal vivo a vedere questa cosa che penso che non ci siano parole per descriverla guardate qui quasi in cima guardate che roba qua c'è un panorama che che pazzesco un panorama indescrivibile provo a guardare che roba com'è qua oh super né qui in cima praticamente c'è una doppia vista c'è dalla parte di là guardi verso praticamente verso verso napoli qui c'è tutta l'isola salendo su dal porto dove siamo arrivati arrivi qui dove c'è questa chiesa c'è uno spettacolo incredibile guarda guarda che vista che c'è qua guarda che posto ragazzi mamma mia qua è meraviglioso isola di procida pomodori superlativi qui sono venuto sotto praticamente prima ero la e qui c'è tutta una serie di ristoranti dove puoi mangiare oggi viene sono aperti da qui fino giù dal fondo sono aperti 3 6 7 ristoranti e puoi mangiare qui i pesci in fronte mare ci sono pescatori questo sta sistemando la rete beh che devo dire meraviglioso qua questo qua praticamente va al ristorante dove hanno girato il film postino l'originale l'hanno girato proprio qua contro easy lui era lì seduto proprio dove c'era la bicicletta non è praticamente neanche cambiato spero che tutti nella vita abbiano la fortuna di poter venire qui dove sono io ad ammirare questa cosa qua veramente incredibile indescrivibile